A cosa è dovuto tutto questo trambusto? Capo villaggio! Sola prego, mi ascolti. Presto i nemici attaccheranno il villaggio. I nemici? Erano tra le rovine in mezzo alla foresta. Sono quelli che vi hanno trasformato in demoni. Non è quello che avevo chiesto! Perché non hai distrutto la luna? Perché? Ho bisogno di distruggere la luna. Se catturassimo i responsabili... La luna! Dovete distruggere la luna! Venga con noi, per favore! La luna! Si è distrutta la luna! La luna! Non farci caso. Come avete potuto? Era la cosa a cui tenevo di più! Non ve la poterò! Ve la farò pagare! Lo prego, si colmi! Dobbiamo metterci subito in salvo! Carborico! Non me ne portate! Lascia... Comunque vi siamo debitori. Tuttavia, cari maghi, mi chiedo... Come farete a distruggere quella luna? Ditemi, quale sarebbe il vostro piano? Ancora grazie mille per tutto quello che hai fatto. Salve! Quando arriverà il giorno in cui finalmente ti deciderai a distruggere la luna? Questa sì che è una domanda difficile. In bocca al lupo! sono avendo a distruggere la luna! Vanno siff animals! Questa sì che tiltala al luna! Ma all'ellata Гussi? Si, che lo farà... No, ne volevo no. Come farete! La val fistitault!